buongiorno e bentrovati chiedi amici a questo speciale della domenica uno speciale notizie 24 di oggi domenica 6 ottobre 2024 buongiorno pietro buongiorno buongiorno a tutti e conteniamo questi benenzi speciali che vorrei non fare perché quando arrivano gli speciali significa che c'è qualche notizia di certo importante ma che sicuramente nei nostri media non si troverà mai quindi vi chiedo soltanto di ascoltarla poi dopo ognuno si fa le proprie considerazioni pietro torniamo sempre nell'area ormai che è interessata dai conflitti che ci stanno coinvolgendo giorno dopo giorno sempre di più quindi torniamo a parlare di ucraina medio oriente e russia quindi il conflitto vasto che si è che si sta aprire le ultime notizie che ci vuoi dare ci puoi dare su questi eventi che si stanno sviluppando ora dopo ora possiamo dire in base a quello che si sente allora facciamo una una premessa ci stanno cominciando a bombardare non voglio usare questa parola a utilizzare sempre la parola guerra 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 quasi a invocarla questa benedetta guerra nella quale comunque ci siamo dentro già da un po da farcela apparire normale è veramente brutta questa cosa abituassimo l'idea della guerra e ci abituassimo a un mondo di pace ma questo quando qualcuno dice una cosa possiamo fare dirlo fa avere consapevolezza perché è importante non abituarci alla idea della guerra perché ormai sembra una cosa della playstation no la gente muore attenzione ci siamo dentro e quello che vi dirò oggi è un'altra notizia che sto verificando spero di poter fare un altro speciale se non oggi domani in merito a qualcosa che sta succedendo nel parlamento italiano sempre riguardante la guerra beh insomma penso che sia necessario rimuovere questa immagine che la guerra sia ineluttabile che bisogna accettare no non l'accetterò mai ci ho premesso vi do una notizia anzi due una del mar nero le pronunce sono sempre molto approssimative perché non conosco il questi termini il manero uno uno un aereo eh chiamato strato tanker kc 135r dell'aeronautica militare 57 barra 26 05 un boeing poseidon 8e della marina statunitense con traspondere spesso sapete che traspondere quel meccanismo che fa identificare i veivoli dai radar perché così non si confondono si sanno quali sono a chi appartengono un boeing rivet joint rc 135w della royal air force anche questo con trasponder spento un boeing che è tre tf nato nato 01 questi quattro aerei lo stato accontro che un primo è un aereo di rifornimento rifornirà tutti e tre gli aerei spia sopra la costa e sopra costanza in romania perché naturalmente quegli altri sono aerei di spionaggio alla vigilia di dell'attacco di israele all'iran le forze armate ucraine potrebbero lanciare un massiccio attacco utilizzando uav veicoli senza eh pilote droni navali e missili contro il nord e sud della federazione russa quindi approfittando di questa di questa cosa che si prevede domani sera della la parte della degli israeliani un'operazione anfibbia potrebbe essere condotta anche in crimea e si prege noi notiamo che il 12 ottobre si terrà un incontro a rammestaino quindi in germania prima del quale le forze armate ucraina potrebbero apprendere eh intraprendere alcune eh azioni contro eh la russia e qualche provocazione mediatica queste sono notizie che mi arrivano direttamente dalla russia è terrificante vedete ci fanno eh ci nascondono queste ospirazioni queste operazioni spionaggio pur sapendo che il 7 ottobre domani è una data fatidica e che il 12 ottobre ci sarà quest'altra riunione rammestaino è terrificante ma accanto a questa è levata un'altra notizia eh oltre all'altra parte dell'Atlantico Malik Obama che sarebbe il fratellastro di Barack Obama e ancora dice Malik che il suo fratellastro Barack è ancora alla guida del paese e avverte che giocherà un ruolo molto importante nella presidenza Harris. Il fratello di Obama continua eh a dire che Obama farà saltare i coperchi e spiega quindi che questo fatto è l'unica motivazione per la cacciata di eh Biden. Malik è stato testimone del matrimonio di Barack ma che in seguito le loro strade sono separati c'è sempre questa notizia ha detto che il suo parente ha cambiato le cose a luglio quando ha sostituito il presidente Biden Coaris come candidato democratico virgolettato c'è ancora che ha sicuramente avuto qualcosa da fare con tutto ciò. È una traduzione fatta eh al volo. Gestisce ancora il partito democratico e governa ancora il paese a porte chiuse. Sarà estremamente influente in tutto ciò che accadrà se vincolo, chiuse virgolette. Alla domanda che gli è stata posta se eh eh se Obama abbiano cospirato dopo la cacciata di Biden e se si era rimasto in contatto? Malik ha risposto. Malik Obama ha risposto. Sono sicuro che si parlano praticamente ogni giorno. Mio fratello non assomiglia più alla persona che era anche qui in Kenya perché abita in Kenya il fratello come sappiamo. Non lo sentiamo. E facendo una pausa continuo a dire è falso come un serpente. Continua ancora il fratellastro di Obama. Ebbene queste due notizie non fanno presagire bene perché il panorama internazionale è quello che è quello vero. Non è certamente quello che ci rappresentano i nostri media. Non è certamente una una cosa della quale possiamo essere vieti di intravedere eh uno uno spiraglio di di luce in fondo al tunnel. Siamo al 6 ottobre. Le elezioni saranno americane saranno meno di un mese. Il 24 ci sarà Kazan questa famosa riunione della della BRICS. Ebbene abbiamo ancora tanta 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 turbolenza. Finirà il 4 di novembre? Non credo. Ma me lo auguro tanto che almeno nella fine dell'anno e inizi dell'anno prossimo questa assurda guerra, queste assurde guerre regionali possono finire. Attenzione. Ultima notizia sapete perfettamente che Trump ha detto che se fosse stato lui presidente degli Stati Uniti la prima cosa avrebbe distrutto gli ambienti nucleari dell'Iran. Questa fa capire che per noi italiani l'uno o l'altro non cambia nulla. Beh, la guerra è a poche centinaia di chilometri per loro e dall'altra parte dell'oceano. Speriamo che inzalliscano o che ci sia qualcuno che pensi di fare qualche missione diplomatica. Pare che ci sia qualche governo, a parte l'Ungheria, a parte la Slovacchia, che pensano di poter fare qualche azione a favore della pace. Azione soltanto di carattere diplomatico. Io me lo auguro. Ma i venti di guerra li stiamo ascoltando, li stiamo sentendo sempre più vicini, i tamburi di guerra che rompono, ma noi non dobbiamo cedere all'idea che la guerra sia un fatto ineluttabile. questo è tutto per oggi. Buon pomeriggio. Grazie Pietro per queste ultime notizie che come tu già hai accennato sicuramente non ci daranno mai, non ci diranno mai. Quindi si sta prospettando che in un momento in cui l'attenzione viene rivolta verso il Medio Oriente, quindi verso il conflitto Israele Hamas, adesso coinvolgendo l'Iran, possa determinare un atto di rappresaglia da parte del regime di Kiev e ai confronti della Russia. Cioè proprio... Sì, dopo vorrei aggiungere, ma ci faremo uno speciale domani, che domani è il 7 ottobre. La Premier Meloni ha ufficializzato la sua visita alla moschea di Roma, alla moschea, alla sinagoga di Roma. Fatto nobilissimo. Significa, nel linguaggio non detto, grande vicinanza agli ebrei per l'esecrabile atto terroristico che hanno subito l'anno scorso. Io personalmente penso che faccia bene, a patto che, ecco, nella comunicazione non verbale che questi gesti danno, giusto, giustissimo dare una vicinanza al popolo ebraico, quindi comunque al governo di Netanyahu, sul quale io non ho nessuna simpatia, ma al popolo ebraico ci mancherebbe. Ma mi piacerebbe che la mattina dell'otto il nostro Premier si decasse anche ad omaggiare non il popolo palestinese, che ne avrebbe pure delitto, ma il popolo musulmano visitando anche una moschea, perché non sono morti soltanto ebrei, ma nel genocidio di Gaza, in quello che sta succedendo in Libano e in tante altre piccole, grandi omicidi, ci sono persone che appartengono all'Islam, che hanno diritto a avere la solidarietà, come si dà alla religione ebraica, visitando la moschea, bisognerebbe darlo anche all'altra religione musulmana, la sinagoga, l'altra religione musulmana, visitando la moschea. Visitare l'una e l'altra avrebbe un senso di equilibrio e di equidistanza. Mi sa che rimarrò senza questa equidistanza, ma questo è un mio pensiero, ne parleremo domani. Allora Pietro, grazie per queste ultime notizie. Diamo appuntamento ai nostri amici radio, ascoltatori e telespettatori al prossimo puntato di La Notizia 24, alle notizie che daremo domani con un altro speciale. Una buona serata a tutti. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale youtube, resta sempre informato.